MVP del match Kevin Tillich, fin troppo facile questa partita, da una parte una squadra in difficoltà dopo l'eliminazione dai playoff, ma voi avete voglia in questo playoff quinto posto di riscattare una stagione fin qui deludente? Troppo facile? Mai, non è vero, perché anche se loro sono sicuro che mentalmente è difficile, noi abbiamo fatto una preparazione di sette settimane per questo playoff quinto posto e abbiamo iniziato bene e concentrati. Quello è una cosa che normalmente non facciamo bene tutto l'anno e questa volta abbiamo fatto bene tutta la partita, anche a metà terzo era un po' difficile, però abbiamo spinto per vincere 3-0. Ecco la rimonta infatti, perdevate 15-10, un parziale di 14-2, questo che va ricordato in maniera importante di questa serata. Sì, avete riuscito a spingere anche in battuta, difesa, dopo aver subito questi sette punti di filo, non so, però un gioco di squadra insieme che i giocatori fuori sono entrato e hanno fatto una buona partita. Questo è un segnale importante, questa vittoria per voi, per puntare davvero a vincere questo girone? Sì, sì, noi abbiamo fatto queste sette settimane di preparazione a lavorare molto per fare meglio che possiamo, vogliamo fare bene, per meglio di questa stagione, sì, sicuro. Grazie. Allenatore Kovac Grazie. 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 Grazie.